Te vedi sta chiesa e te pensi di sta a Parigi, sul lungo Senna, e invece sta a Roma Capoccia, sul lungo Tevere, quasi appiccicata al Vaticano. E poi te verrebbe da pensare, dici, ammazza, una chiesa gotica Roma, bello, e invece hai toppato di nuovo, perché sta chiesa è solo neo-gotica, essendo infatti da data 1917. È un revival. Terzo poi, te vi è comunque da ammirare sta bella facciata, per quanto finto gotica, tutta bella di pietra. E non sai che stai a toppare pa' la terza volta, perché la facciata è fatta di cemento armato. Un po' tipo l'hamburger de soia o i porpette de seitan, per di. Insomma, come te metti sbagli? Ma d'altra parte sbagliai, umano. Tanto che dice che nell'ardilà c'è sta un posto chiamato Purgatorio, dove quelli che sbagliano, ma solo un pochetto, no poco grave grave, vanno a meditare e soffrire in Anticchia prima di andare a definitivi in Paradiso. E pensa che accanto a sta chiesa qui c'è sta un museetto pieno dei presunte testimonianze dell'anime che stanno a Purgasse in Purgatorio. Chissà che non c'è sia pure l'architetto qua, sopraffino ingannatore.